Ciao a tutti, sono Stefano Gianmastiani, sono cantante e chitalista, sono il writer delle sedenti da Luca. Questo brano si chiama Cantone di Settembre e parla dei sentimenti e dell'amore al giorno d'oggi, perché doppiamente con il periodo che stiamo vivendo direi che abbiamo bisogno dei sentimenti e dell'amore. Questo brano fa parte del nostro ultimo disco che si chiama Sone is Possible, è uscito a ottobre del 2019, per registro, mi fichetta ferrerese distribuita da audio proprio. Il disco lo potete trovare nei negozi e ovunque, online, cioè su Spotify, su Amazon, su Deezer, su iTunes, su YouTube, insomma dove volete. Questa è la canzone, canzone di Settembre. So, 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 so. Avermi qui, cercami in consola Correndo sai, mi accetto allora Portami via, mi dici ancora Comunque vai, questa è la mia aurora Il mondo si, si deteriora Comunque sai, non ci amiamo ancora Portami via, mi dici ancora Comunque vai, questa è la mia aurora Na, 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 na Na, 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 na Grazie a tutti e un saluto anche al latino del mio gruppo, Alfredo, Antonio e Luca. Ciao!